Cosa è la legalità? Cosa è la legalità prima nei reati? Molte persone sempre di più acquisiscono un forte senso civico, mi sento di dire che Napoli è una capitale del mondo anche in questo, nel senso che ci sono i problemi, i reati e i crimini che ci sono in tutte le capitali del mondo, quindi non siamo né primi nell'essere da esempio da questo punto di vista ma nemmeno ultimo.